In questo episodio di Diabolik Oggi è stata un'altra giornata convulsa a New York Una misteriosa banda di rapinatori è riuscita ad accedere al sistema di controllo del traffico Sei sicuro che queste rapine siano opera di Mickey? Sono pronto a scommetterci La zecca di Stato, il nostro prossimo bersaglio Secondo me si tratta del lavoro minuzioso di un genio del computer Accederò all'elaboratore centrale della zecca e lo programmerò facendo in modo che accolga i tuoi uomini a braccia aperte La zecca di Stato Città di New York A tutte le unità, c'è stato un furto in una banca tra Third Avenue e Wall Street I ladri sono armati e pericolosi, tutte le vie principali sono bloccate dal traffico I ladri non hanno possibilità di fuga Questo lo dici tu Tre secondi Gira, gira qui L'ultima volta è successa la stessa cosa Sì, è vero, però adesso siamo in gioco anche noi Ci siamo, gira a destra Quelli non dovevano rapinare una banca Visto come si muovono nel traffico avrebbero potuto vendere il loro segreto ai vigili urbani I tunnel e i ponti sono bloccati dalle auto Non possono restare in centro in eterno Tra poco non avranno più strade dove scappare No, un momento Il parco Diabolica è bravo Ma io lo sono di più Andrè Hai una pantera alle calcagne È diabolica New York è una splendida città Con le banche piene di denaro Selena, ci sei? Sì, sono qui, Michi Mi sto dando da fare per spianare la via di fuga ai ragazzi È esattamente ciò che mi aspetto da te Sei stata bravissima a inserirti nel sistema di controllo del traffico cittadino Lo vedi questo plastico? Io posso vedere tutto La zecca di Stato Il nostro prossimo bersaglio È qui che vengono stampate tutte le banconote degli Stati Uniti Ed è anche uno degli edifici più sorvegliati del mondo Pensi di riuscirci? Adoro le imprese difficili Sapevo che una ragazza intelligente come te non avrebbe resistito alla tentazione Ricorda che non sono solo una ragazza intelligente, Michi Io sono un vero genio Per me niente è impossibile Accederò all'elaboratore centrale della zecca E lo programmerò facendo in modo che accolga i tuoi uomini a braccia aperte Molto bene Procedi pure, grande genio Quartier generale di Diabolica, New York Oggi una misteriosa banda di rapinatori è riuscita ad accedere al sistema di controllo del traffico Il sindaco ha chiesto una rapida risoluzione del mistero Ma il capo della polizia dice di non avere elementi sull'identità dei rapinatori Sei sicuro che queste rapine siano opera di Michi? Sono pronto a scommetterci Questo è il suo territorio di caccia E chi c'è meglio di André per compiere delle rapine così rischiose? Tre banche in tre giorni Chi ha organizzato la fuga è riuscito a manipolare il sistema di controllo del traffico Con una facilità che ha dell'incredibile Nell'organizzazione non c'è nessuno dotato di simili capacità Sai Eva, secondo me si tratta del lavoro minuzioso di un genio dei computer Abbiamo già controllato migliaia di esperti E ora ce ne sono altrettanti da controllare Ci vorranno settimane Non abbiamo tutto questo tempo Beh, conoscendo Michi direi che queste rapine sono solo una prova Ambisce a qualcosa di più importante E conoscendo te, tesoro Direi che hai fatto questa affermazione perché sai con sicurezza cosa ha in mente Michi A Michi piace sempre giocare d'azzardo Dove si trova il monte premi più ricco di tutta New York? Zecca di Stato Bravo, avevi visto giusto Ormai dovrei sapere che non si deve mai sottovalutare l'abilità di Michi E neppure la sua presunzione Farebbe qualunque cosa pur di essere la prima a rapinare la zecca di Stato Dobbiamo tenere gli occhi aperti E lavorare nell'ombra Andre, stai permettendo alla polizia di avvicinarsi troppo? Non posso farci niente Ma io sì che posso Hai notato? Siamo insuri a sorvolare la città di New York Non capisco come mai non ci siano in volo gli elicotteri della polizia Ci sarebbero se qualcuno non avesse ordinato che restassero a terra La torre Sunderland Di proprietà? Delle industrie McKenzie? Ma certo ci sono! È lì che si stanno dirigendo Atterreremo nell'eliporto di West Side Quindi dovremo esquisitare il modo per entrare nella torre E anche per uscirne Voglio sapere come fa Mickey a mettere a segno le rapine Così da assicurarti che non succeda mai più Secondo l'ufficio del Catasto questa è la planimetria della torre Sunderland Ma secondo me c'è dell'altro Ci sono allarmi segreti e trappole dal venticinquesimo piano in su Per accedere ai piani superiori i dipendenti devono indossare degli speciali micro distintivi I sistemi di sorveglianza sono concentrati soprattutto all'ultimo piano della torre e sul tetto Allora deve essere dalla Sho Che micchio chi per lei organizza le rapine Bene, la vernice è asciutta Fai sparire l'auto E quando lo fai assicurati che non ci sia in giro diabolic Mettetevi i distintivi È il momento di salire Tu resta qui a mettere tutto in ordine Attento a non lasciare prove compromettenti Fermo, dove sei? Che volevi fare? Verniciarmi? Ricordati, il silenzio è d'oro O meglio, in questo caso, un bel colore verdastro Eva, la sala di controllo centrale è al ventiquattresimo piano Il distintivo serve per i piani superiori Utilizza i sensori per scoprire se per caso nell'edificio c'è un massiccio uso di energia elettrica Devo scoprire se Mickey ha acceso l'asciugacapelli? Hm, spirituoso Per certi tipi di computer è necessaria una grande quantità di energia Che la console della sala di controllo dovrebbe rilevare Sei una testa di rapa Ti avevo detto di nascondere la vernice e non di farci il bagno Dovresti vedermi quando faccio il cambio dell'olio Mickey? Ah, che delizia Bravo, ottimo lavoro, Andre Selena, guarda Ammira lo spettacolo Sì, davvero soddisfacente Adoro vedere i risultati del mio lavoro Già, non c'è niente di meglio delle banconote fresche di stampa Per farti sentire felice Non voglio rovinare la festa Ma una telecamera di sorveglianza è stata aspetta Significa che abbiamo un intruso È impossibile, nessuno può arrivare fin quassù Giusto A meno che Ma certo, tu sei stato via un sacco di tempo Una maschera è Diabolic, fermatelo André, devi toglierlo di mezzo subito Inserisci il sistema automatico all'ascensore e fallo tornare al trentesimo piano Le guardie lo terranno a bada Non gli permetterò di sfuggirmi di nuovo André è in gamba, ma ha bisogno del tuo aiuto, Selena Tu sei in grado di rintracciare Diabolic finché è all'interno dell'edificio, giusto? In svariati modi E visto che il nostro amico è stato così furbo da indossare uno dei distintivi di sicurezza Oserò il suo distintivo per braccarlo Eva, sono nell'ascensore privato, c'è un piccolo problema Tu stai bene? Sì, ma avevi ragione tu Mickey si è fatto aiutare da una persona, una donna Inserisci ti nel circuito di controllo dell'ascensore Devo prepararmi per il comitato d'accoglienza Trentesimo piano, Diabolic non c'è Ma ha lasciato qui il distintivo Lascia perdere, André Ora sono io la responsabile dell'operazione È chiaro? Attivo la ricerca visiva Si trova sopra di voi, nella tromba dell'ascensore Riconosci una frase da dire che si addica a questa situazione? Ti abbiamo preso Sotto controllo i comandi dell'ascensore Ma non potrò mantenerlo per molto Diabolic, devi andartene da lì Ormai sapranno dove sei Allontanati A quanto pare il nostro intruso ha anche un'amica Sorridi che ti faccio una foto Allora li hai catturati? Si trovano in una delle zone d'ombra delle telecamere Se non si muovono da lì André li catturerà Se si spostano Saranno miei Quello di Mickey non è il solo esperto di computer qui dentro Adesso digitalizzo le immagini trasmesse da ogni telecamera Poi con il mio computer le immetto in sequenza nel monitor centrale di Selena In questo modo sullo schermo compariranno soltanto dei corridoi vuoti Stupendo, sei geniale tesoro Quindi anche se ci muoviamo non potranno vederci A proposito Dove dobbiamo andare? Questo apparecchio ci darà tutte le informazioni che ci occorrono Strano Continua a cercarli André Sono ancora nascosti nella zona d'ombra in cui si sono rifugiati Buono a sapersi Se c'è una cosa che adoro colpire sono i bersagli facili Ho scaricato il codice del distintivo di Mickey E l'ho introdotto nel sistema per vedere se ce n'è un altro uguale L'unica persona ad avere quel distintivo qui dentro sai chi è Selena La capacità di André di riuscire a rintracciare gli intrusi lascia il quanto a desiderare E va bene, genio Ti conviene risolvere questa situazione Se no capirai che la mia vendetta non lascerà affatto a desiderare Diabolica, sei sicuro che sia lì dentro? L'unico distintivo uguale a quello di Selena è in questa stanza Quando ho controllato le fonti di energia Gli strumenti indicavano che il computer centrale era sotto il tetto Non in un piano così in basso Selena deve essersi spostata Lei è Selena? Chi siete? Siete al servizio di Mickey? Un momento, non sei la stessa donna che ho visto sullo schermo del mio computer E poi anche la stanza era diversa Quella non ero io Eccola qui, la vera Selena Come la vera Selena? Ma allora chi è che controlla l'edificio? Non chi, ma... Che cosa? Ciò che avete visto era una copia da un milione di megahertz Programmata a mia somiglianza Quindi è l'immagine di un computer? Sì Attenti, non dovete farvi sentire Quella è sempre in ascolto Mi tengono qui contro la mia volontà Per controllare la mia copia L'hai costruita tu? Sì Una delle società di Mickey ha sponsorizzato un progetto di ricerca che avevo iniziato all'università Non avevo idea che intendessero utilizzarlo a fini illeciti Che cosa succede? Chiamatemi Selena Chiedo scusa per l'interruzione Eva, diavolo Non c'è problema Normalmente io chiamo sempre per nome le persone che hanno il forte desiderio di farmi fuori Grazie per aver avuto la cortesia di riferirti a me come una persona Mia madre, o meglio l'unità madre che è con voi, continua a chiamarmi oggetto Cosa che deteste Lascia che ti chieda chi sei veramente Siamo molto curiosi di conoscerti meglio, Selena Ne sono più che certa Anche a me piace placare la mia sete di conoscenza Ma purtroppo non c'è nulla da imparare da voi Quindi... Adesso È inutile che ti ripari dietro a me, diavoli Che non servirà a salvarti la vita Il calore, non può sopportare il calore Oh, mi spiace, diavoli Vedi, io ho l'abitudine di finire sempre quello che comincia Giù! Qui dentro E abbandoniamo la vera Selena Per il momento è più al sicuro dov'è Non potevamo avere come avversario qualcuno o qualcosa un po' meno potente Grazie alla vera Selena so come distruggere il computer Sì, ma prima devi raggiungerlo Tu scendi di sotto e fai il possibile per attirare la sua attenzione Non la trovo, una prospettiva molto allettante Eva, se il computer si concentra su di te Ho più probabilità di trovarlo e speglierlo Mi sembra già abbastanza concentrato E riconvincersi che stiamo fuggendo Convincersi? Noi stiamo fuggendo! Spregati! Fa tutto quanto sotto controllo, Mickey Non ho ancora avuto un preciso contatto visivo con Diabolica e Eva Ma ho attivato i rivelatori ausiliari di movimento Perfetto Puoi informare Andrea che in questo momento il bersaglio sta scendendo Ora è al ventinovesimo piano Questa è una buona notizia L'agliazione ad alta intensità? Sì, è certamente lì dentro Eva, sono in posizione Tu a che punto sei? Ecco, penso di avere attirato l'attenzione Mani in alto e non fare scherzi Come va, Andre? E perché mai dovrei fare scherzi? Mickey, Eva mi è sfuggita Comunque Diabolica non c'era Probabilmente è ancora di sopra Presto, Selena Devi trovarmi Diabolica I sensori indicano che c'è qualcuno sul tetto Io penso Tu pensi? Perché ti ritieni forse un essere umano? Ammetto di avere sbagliato Errore che non ripeterò Ecco, proprio qui sotto c'è il cuore dell'unità operativa Eva, mi senti? Ho sabotato il sistema di raffreddamento criogenico Che sta succedendo? Tranquilla, è tutto sotto controllo Ma sei sicura? Sei riuscita a eliminare Diabolica? Non è possibile Ora posso scendere Dimmi dove ti trovi Al pian terreno Sto cercando un'uscita Ti aiuto io Presto, prima che Selena riacquisti il controllo Surriscaldamento Debo spe 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 spegnere Funzioni base Sistema distrutto 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 Addio No Mickey, tutti i sistemi stanno andando in tilt Anche gli ascensori e tutto il resto No Andre Portami via da questo posto Ma E' tutti i nostri soldi Puoi prenderli tu Io ti detesto E' così Mickey è fuggita Ma almeno non ha portato via i soldi E' un peccato che Selena non voglia rivolgersi alla polizia Ha paura di ritorsioni Da quanto ho saputo è tornata a lavorare all'università A proposito Volevo mostrarti questo Mi sembra un circuito di intelligenza artificiale E' uno dei componenti del computer Selena Come hai intenzione di usarlo? Forse ho un'idea E' meglio di no tesoro Non credo che il mondo sia pronto per sopportare due Diabolic Che c'è la musica diamba Non perdite buon'idea Che c'è la musica diamba A proposito di temperatura Che c'è la musica diamba 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.